E allora, un grande applauso a una meravigliosa attrice, Claudia Gerini, e un mago della risata, Raul Cremona! Rimani lì tu, eh! Oh my God, my black angel! È andata così? Che bello! Ciao, Claudia! Certo! Ciao, Raul, benvenuto! Ciao, ciao a tutti! Vieni qui vicino! Venite, venite, che vi apprezzino e vi applaugano! Grazie! In più! Guardate che meraviglia! Grazie! E allora, io vi accompagno alla vostra postazione. Prendete posto, poi dopo vi spiego il vostro delicato compito. Intanto voi potrete interagire con me, con gli artisti, insomma, divertiamoci! Certo, certo! Ah, siamo venuti apposta! Grazie! Se vuoi, mi esibisco subito! No, aspetta, aspetta! Tieni il caldo! No, no, lo so che sei! Lo tengo buono! Lo tengo buono! Tienilo buono! Ma non mi fai scendere! No!